Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, qui è Naboo1926 che vi parla e ragazzi siamo tornati dopo la mezza delusione contro la Shakhtar Donetsk in un video che non parla di calcio ragazzi questo è un video speciale, è molto diverso rispetto a quello che feci dei 50 iscritti ma partiamo diciamo dall'inizio ragazzi sono arrivato a quota 100 iscritti, ragazzi io veramente sono entusiasta sia di me stesso quindi mi faccio tra virgolette complimenti da solo perché io non avrei scommesso nemmeno un centesimo che dopo nemmeno tre mesi sarei arrivato a questa cifra e ringrazio di cuore voi perché siete voi i miei iscritti non io detto questo ragazzi io approfitto di questo video per ringraziarvi di tutto io ho iniziato a fare video su youtube il 21 giugno ragazzi è iniziato molto diciamo vagamente sapete perché? perché in realtà io avevo già avuto delle piccolissime esperienze di qualche video un paio di volte tutte fallimentari e più di una volta avevamo progettato pure più di noi a provare ad aprire un canale youtube e mai nessuno di noi si è riuscito a muovere e a creare una cosa del genere ragazzi ho creato per quanto riguarda il mio piccolo una piccola community diciamo di ragazzi che mi seguono e questa cosa io di questa cosa veramente se ne sono fiero il 9 agosto ragazzi ho raggiunto quota 50 iscritti 9 agosto ovvero facendo un piccolo calcolo circa un mese e mezzo dopo no pure di più eh sì più o meno un mese e mezzo dopo l'apertura del canale ero contentissimo feci quel video in bagno e veramente fu una cosa improvvisata adesso ho avuto il tempo perché in realtà 100 iscritti non ci sono arrivato oggi 15 settembre ma ci sono arrivato l'altro ieri il giorno di Shakhtar Donetsk Napoli se Napoli avesse vinto sarebbe stato incorporato al video speciale e il video del post partita però purtroppo alla fine è andata come è andata e quindi l'ho voluto fare due giorni dopo quindi ho raggiunto ufficialmente 100 iscritti il 13 di settembre diciamo che ragazzi sono soddisfatto adesso mi sentite un po' con la voce così perché in realtà sono più che altro emozionato perché eh con le cifre che girano oggi su youtube magari 100 iscritti possono sembrare pochi la stessa cosa che dissi a 50 però ragazzi aver raddoppiato in un mese scarso il la cifra che avevo fatto all'inizio ovvero fino ad agosto per me è veramente un traguardo importantissimo adesso il prossimo traguardo importante saranno i 500 iscritti ragazzi ci saranno tanti contenuti tanti contenuti perché io voglio di continuare il canale la scuola è ricominciata ma non me ne frega devo continuare a fare video ragazzi perché una volta arrivato a 100 iscritti io devo per forza continuare io detto questo volevo passare ai ringraziamenti ragazzi io prima di tutto volevo ringraziare diciamo colui che un po' come tutti gli altri commenta sempre i miei video è iscritto al mio canale e mette sempre like lasciate sempre like però ragazzi tra noi è nata addirittura un'amicizia abbiamo organizzato tante collaborazioni ne approfitto per dirvi che domenica saremmo allo stadio entrambi probabilmente faremo una specie di live una specie di reazione finalmente un video insieme e stiamo parlando di Partenopei Gamer ragazzi io volevo salutare felice perché così si chiama Partenopei Gamer iscrivetevi a salutare il suo canale ragazzi ci tengo tantissimo perché veramente cioè dopo il mio video la colonna portante di video è lui perché lui è sempre il primo a vederli e veramente lo ringrazio veramente dal profondo del mio cuore ed il primo a vederli è anche Blue Blood ragazzi Blue Blood non è altro che non è altro che un ragazzo che già mi seguiva prima si chiamava Partenopei in 1926 poi ha cambiato nome ma è sempre lui è sempre lui a seguirmi sempre e lo ringrazio perché anche lui veramente è stata sempre una colonna portante del mio canale volevo ringraziare tantissimo anche ai Carpe Show ai Carpe Show ragazzi un altro ragazzo che mi segue sempre è il primo sotto i video a commentare lascia sempre like mi sostiene sempre quindi volevo ringraziare anche lui perché veramente è insieme a questi qui che sto nominando praticamente uno dei primi che commenta che lascia like che si è iscritto al mio canale volevo ringraziare anche Totos che è il mio fratello mi raccomando iscrivetevi al suo canale lo volevo ringraziare perché comunque mi lascia sempre like anche lui è iscritto al mio canale e in qualche modo anche mio fratello mi sta sostenendo in questo cammino che sto percorrendo su YouTube e volevo anche salutare dal cuore Alessandro Toriello ragazzi un altro ragazzo che mi sostiene sempre lo ringrazio anche lui tanto perché anche lui viene sempre sotto i miei video ragazzi ci sono tante altre persone che mi seguono posso pensare a Giuseppe e poi il cognome me lo scordo sempre Giuseppe Raig una cosa del genere anche lui lo ringrazio ma ce ne sono tantissimi altri adesso in questo momento non ce li ho tutti i nomi diciamo insieme se ho saltato qualcuno clamorosamente ditemelo qua sotto nei commenti ma comunque ragazzi io questo speciale è venuto lunghissimo io vi volevo ringraziare perché è venuto così lungo perché veramente ci sarebbero tanti di quei ringraziamenti da farvi che questo video potrebbe durare anche una giornata intera però io adesso lo chiudo qui continuo a ringraziarvi per tutto il supporto che mi state dando in questa avventura su youtube spero di continuare il più possibile ed arrivare il più presto possibile a 500 iscritti il mio obiettivo è cercare di arrivare per Natale almeno a 300 dato che adesso siamo a 102 iscritti detto questo ragazzi io vi saluto mi raccomando iscrivetevi al mio canale per cercare di arrivare il più presto possibile a 500 iscritti iscrivetevi a tutti i canali che vi ho detto iscrivetevi ai canali della Fire Crew perché ricordiamoci che io faccio parte di una crew della Fire Crew quindi iscrivetevi a tutti i canali che vi lascerò qui sotto in descrizione io vi saluto mi raccomando non perdetevi l'epicissimo video commento che faremo con partenopei gamer allo stadio diciamo al 98% lo faremo se poi non lo vedrete mi scuserò ma praticamente lo vedete quasi sicuramente io vi saluto e noi ci vediamo a un prossimo video grazie a tutti